Ancora donne vittime protagoniste di maltrattamenti. In tempi di quotidiana cronaca nera continuano ad essere registrate forme di violenza fisica o psicologica. È successo anche nella città della Fortuna dove due fanesi, un marinaio 44enne e un'impiegata di 51 anni, hanno vissuto da sempre la loro relazione con continui alti e bassi. La decisione di andare a convivere poi non ha migliorato la qualità del rapporto. Le discussioni infatti si trasformavano spesso e litigi e talvolta degeneravano in violenze fisiche. Ma nel marzo 2015 la donna ha deciso finalmente di chiamare i carabinieri. Accompagnata al pronto soccorso è stata curata e dimessa con una prognosi di 30 giorni. L'uomo gli aveva provocato un trauma cranico, ematomi al volto, la frattura di due costole e nonché ferite varie alle gambe. Durante la denuncia ha riferito inoltre ai militari di innumerevoli episodi pregressi mai denunciati. Due mesi dopo la stesura dell'atto l'autorità giudiziaria ha emesso nei confronti del marinaio un primo provvedimento di divieto di avvicinarsi alla vittima. Purtroppo però non ha ottenuto gli effetti sperati. Lui continuava a violare gli obblighi provocando alla compagna stati di ansia e profondo sconforto. Fiduciosa si è rivolta di nuove carabiniere ai quali ha raccontato il comportamento minaccioso e molesto del 44enne. All'ennesima segnalazione l'autorità giudiziaria ha emesso un provvedimento maggiormente afflittivo disponendo la sottoposizione agli arresti domiciliari nei confronti dell'uomo. I militari della stazione di Fanno hanno dato esecuzione al provvedimento. Così è stato tratto in arresto e condotto nella sua abitazione agli arresti domiciliari.